Elettronica Veneta presenta il nuovo modello di robot collaborativo a 6 assi NDIDA. Il robot può essere utilizzato come stand alone per far familiarizzare lo studente con la cinematica diretta e la programmazione in C e in C++. NDIDA può inoltre essere inserito in una linea di automazione per studiare la proceduralità anche grazie all'interoperabilità col PLC.